Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.News trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.News This episode is brought to you by Starry. When you drink Starry Lemon Lime Soda, every sip is a win. Perfect for game time, or any time. It's a crisp, refreshing lemon-lime soda that's caffeine-free and bursting with flavor that makes you go, ah. Starry hits different. Find it in stores or online today. Un telefono dedicato per ogni amico. E tra questi amici, appunto, uno degli imprenditori più importanti della capitale. Ma perché questo rapporto era tenuto segreto? Dopotutto quello che ho detto su Buzzi, sul fatto che comunque è l'eroe dei due mondi, quello che può stare a cena sia con Alemanno che con Casa Monica. Nessuno fa domande perché appunto lavora nel settore del reinserimento sociale. Comunque, chi di dovere non solo continua a seguire i carminati, ma nel dicembre 2012 vengono riempiti di cimici tutti i locali, tutte le zone che frequenta il pirata. Sopralluoghi su sopralluoghi. Ed è quello il periodo in cui esce la copertina dell'Espresso sui quattro re di Roma. Quindi la situazione è incandescente. È facile che si lascino dichiarazioni sull'argomento. Quindi il confronto su questa tematica avviene anche con Buzzi. Difatti Carminati dice Non capisco perché sono in libertà. Giustamente, se le copertine dei giornali gli danno del boss mafioso, praticamente che sta a far libero? Ma dove sono le prove? Cioè, fatti concreti, in quel momento quella copertina è calugna pura. Se non fosse che è un fondino di verità. Ma il problema non è la copertina, Ma le pagine successive Si rivolgono a lui gli imprenditori e i commercianti. La sua influenza si è moltiplicata dopo l'arrivo a Campidoglio di Gianni Alemanno. Il business principale è la cocaina. Ora Carminati Sa ancora più di prima Che sono sulle sue tracce E ancora di più di prima Deve guardarsi le spalle Ma la cosa è difficile Visto che ci sono microspie ovunque E qui è bella anche l'ironia che fa Carminati Dice Mi faccio cremare e buttare nel cesso Lascio solo un pollice Così magari lo usano per le impronte su qualche rapina E qui mi viene da un attimo soffermarmi Su questo narcisismo che lui ha Che lo porta a ironizzare Sì ma anche a non vedere lucidamente la realtà Intendo dire Che è vero a fatti concreti Che magari ci sono tante cose In cui è stato tirato in mezzo Dove magari lui non c'entrava niente Oggi qualunque cosa accade a Roma Ci sta dietro Carminati Però a fatti concreti Cioè lui era lì dentro Dentro la celletta Che aspettava una condanna A trent'anni Perché i pecorelli Ma che vogliamo fa' Non posso dire l'ha ucciso lui Perché le condanne dicono di no Però se lui l'ha fatto lo sapeva Cioè quel ghigno Dopo l'assoluzione Quello lì Quello mi colpisce Quello è E il narcisismo di cui parlo Ha anche questo modo appunto Di autoironizzare su di sé E fa parte di questo personaggio Ci sguazza mentre dice Mentre fa queste battute Accadono comunque tante cose Nella quotidianità di Carminati Perché non è che Tutti quelli con cui ha a che fare Sono dei turi O personaggi Chissà che Ci sono anche dei bolletti Dei gaggi Così viene chiamato Ad esempio Cristiano Guarnera L'ultimo di una generazione Di palazzinari romani Pieno zeppo di soldi Pronto a fare parecchi appartamenti A Monteverde 90 per la precisione Con cantiere già operativo Lo ripetisco Bello Pieno zeppo di soldi Figlio No di papà Figlio di papone E cosa vuoi che accada Ovviamente viene minacciato No E allora si rivolge a Brugia Per essere protetto Guarnera ha detto chicco Ci tengo a dire Detto chicco E' proprio il classico imprenditore colluso Non ha morale Non ha coscienza E' solo uno che vuole pararsi il culo E che Vabbè Sarà la storia A descriverlo Brugia Presenta chicco Al signor Matteo Calvio Quello che fa i lavori sporchi Che diventa la sua guardia del corpo Cioè praticamente Guarnera si fa vedere con lui E questo basta A far cessare i problemi Poi passano i giorni I problemi sembrano risolti Chi ti minaccia se c'è Matteo Calvio Alle calcagna? Nessuno Un giorno avviene l'incontro Anche con Massimo Carminati Nel bar di fiducia E in qualche modo Avviene una mossa intimidatoria Cioè per far vedere A questo personaggio Diciamo con chi ha a che fare Viene chiamato il parcheggiatore Abusivo della zona E Brugia lo intimidisce Gli dice Ma che vai facendo No? L'ironia su di noi Dici che siamo i quattro uomini d'oro E Carminati dietro Quattro uomini di piombo Lo ripete più volte Tutta questa messa in scena Serve per far sentire il polletto Uno di loro in parte Quindi forte Intoccabile E allo stesso tempo Mette le regole Ecco chi siamo Loro stanno parlando al parcheggiatore Ma in verità si rivolgono a Chicco E' un attestato di merito Ok? Per far capire un attimo la situazione Per mettere a punto Delle regole non scritte Che non vogliono Che vengano violate Poi qui c'è la storica intercettazione Sulla descrizione del mondo di mezzo I vivi sopra e morti sotto Che è piaciuta tantissimo A chiunque E che insomma fa capire C'è poetica in quelle In quell'intercettazione Un carminati che ci sguazza In questa fase Sta facendo il lavoro che ama E anche qui I rischi sono minimi In fondo che reato sta commettendo Nessuno sta lì Al bar A farsi il guappo A educare A mettere in riga Un imprenditore del cazzo Si prepara a prendere soldi facili L'unica cosa è che Giustamente questi soldi Li prende E poi non li dichiara Ma come dice lui Mi stanno arrivando 20 miliardi di euro Che devo pagare Per il furto e cavomo Vi pare che Io Mi faccio sequestrare I soldi legali C'è il motivo Per cui i carminati Dicono Non apro partita IVA Non faccio nulla Magari Non faccio risultare Questi soldi Che sono legali Perché E perché Giustamente Non mi va Che poi lo Stato Me li sequestra Il discorso è questo Non fa una piega Fondamentalmente Se andiamo a vedere Vabbè Comunque Ehm Cosa vuole carminati Ovviamente la cartella Con i preventivi Per gonfiare le spese Per guadagnare Senza investire Soldi puliti Semplici Conciso proprio Lui 15 gennaio 2013 Carminati Va a prendere Guarnera Si beccano Con Gaglianone Quello dell'impresa Ricostruzione I due Si lasciano Anche andare A confidenza Sul vivere fuori Roma Cioè Carminati Sta tutto felice Tutto simpatico Pimpante L'accompagna a casa A farsi un caffè Una mezz'oretta Dalle riprese Si vedono loro Sorrisoni Tutti felici Arrivano All'appuntamento Si conoscono Appunto Si conoscono L'imprenditore Il costruttore Praticamente Iniziano Inizia Carminati A far conoscere Le persone Che fanno parte Dello stesso settore Da cui lui Può fa le creste E prende il denaro A Villa Candida Nel frattempo Ci sono dei palazzi Di Guarnera Invenduti Una bella occasione Per la coppia Carminati-Buzzi Così Il 25 gennaio Si ribeccano E Gli si spiega All'imprenditore Cioè A Guarnera Sempre Massimo È lui che Fa queste spiegazioni Che praticamente Il comune Paga la cooperativa Che si appoggia Agli appartamenti Insomma Soldi Senza problemi Palazzi coperti Gente che va a vivere In questi appartamenti E Becchi i soldi Dal comune Proprio Facile facile Tutto a posto E si inizia Anche a parlare Di futuro Quindi No Guarnera Ribadisco Detto chicco Inizia a sentirsi Parte del gruppo Allora dice Già che sto in confidenza Fammi risolve Un po' di questioni Vecchie No Cioè che ci sto Ad esempio Lui lasciò Un orologio Come pegno Un tizio Un commerciante Questo qui Che poi non pagò E non restituì L'orologio Una vecchia conoscenza Tra l'altro Di Carminati E Brugia E allora vanno insieme Brugia E E Guarnera Vanno a casa sua Ma non c'è Allora subito Appena Il commerciante Viene a sapere Da persone Lì vicino Che sono andati Sotto casa sua Personaggi Un po' pericolosi Subito chiama Brugia Cioè ma che sta succedendo Cioè E viene convocato Nella stazione di servizio E che fa? Erroraccio Si presenta con la figlia Con la bambina La cosa Non piace per niente Né a Brugia Né a Carminati Che proprio Nelle intercettazioni precedenti Hanno detto Se viene con la figlia Io do due pizze Cioè vai per dire Ma che cazzo fai Crediti Che la cosa si risolva Perché stai con la figlia Comunque Loro prendono la bambina E la parcheggiano Letteralmente Distante Quindi insomma Con la bambina in mano Vanno poi a parlare Il commerciante E Brugia Due minuti La situazione è già chiara Risolta Questo per far capire Diciamo Anche i tempi Con cui questi personaggi Risolvono le questioni Immagino che l'orologio Verrà restituito E magari Anche una penale Per la Per aver sbagliato Diciamo Guarnera Adesso si sente Intoccabile Si sente arrivato Non ha più paura Di nessuno Licenzia Anche la guardia Del corpo Matteo Calvio E si fa anche Lo svelto Al telefono Con una donna L'ho mandato Letteralmente A fare in culo Capirai C'era Massimo C'è follia pura Adesso si pensa Di essere lui Alla pari Delle persone Che frequenta Quando invece Viene solo Sfruttato Da queste Viene pure Chiuso L'affare Di Villa Candida Insomma Momento Top Guarnera Alle stelle Fino al 20 marzo E mi stupisco Che sia durato Così tanto Senza fare cazzate Ore 9 e 30 Appuntamento Tra Massimo E Chicco Passa un'ora Guarnera Non c'è Devono andare In cooperativa Per dei fatti Nuovi Affari nuovi Con Con Buzzi Roba importante Commenti a caldo Di Massimo Sono Ti faccio A Brandelli Merda Ovviamente Non gliel'ha ancora Detto in faccia Perché Quando Massimo Carminati Nel momento In cui pensa Ti faccio A Brandelli Merda Non devi esserci Sennò ti fa Veramente A Brandelli Merda Quindi Fortunatamente Guarnera Non c'è Quindi quando Carminati Fa questi commenti Non glieli Dice direttamente Altrimenti Si era già Impiccato Guarnera Comunque Non riescono A rintracciarlo Che è successo Che Guarnera Semplicemente Non si è svegliato Non gli è suonata La sveglia Come se Con ste persone Che stai a scuola Allora poco dopo Chiama la cooperativa Per scusarsi Poi prova a chiamare Massimo E Massimo Non risponde E sono esilaranti Le riprese Fatti in diretta Alla villa Di Guarnera Che si sta Cagando Addosso Poi va Dal padre Che va a parlare Con i Brugge Carminati Si vedono Le riprese Che insomma Il clima è caldo Poi va Dal figlio E lo cazzia proprio E dice Ma che Questa è gente pesante Ma che cazzo fai Te l'ho passato io Sti contatti Ma ti sei impazzito Allora Chico chiama Brugge E gli dice Brugge Ogni rapporto è chiuso E' finita Non ti preoccupare I affari sono andati Però Parla con l'amico nostro Perché non presentarsi E non dare spiegazioni Non è una condotta Accettabile Chico Guarnera Capisce che La situazione E' già ben oltre Allora Lo vedi che fa avanti E indietro Nel suo balcone Inizia A chiamare 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 E' Allora alla fine Gli manda un messaggio A Carminati Un messaggio Strappa lacrime Dove si scusa Infinitamente Chiede perdono Per tutto Passano minuti Passano le ore Un altro messaggio Perdonami Per favore Ho solo voi Come amici Anche perché Guarnera Fava anche parte Di un gruppo Di motociclisti Che lo hanno sempre Un po' Come si dice Preso un po' In giro L'hanno sempre Un po' Bersagliato Adesso Da quando sta Con Carminati Si fa anche il fenomeno Nel suo gruppo Di motociclisti Quindi va da loro Famono Le cose sono cambiate Cioè Per lui La coppia Brucia Carminati Sono praticamente Importantissimi Sono il loro Il suo status Se perde loro Perde tutto E loro Vedi che si schiuma Sigarette come un pazzo Perché adesso Non è solo il discorso Di perdere lo status C'è che ha paura Di essere ammazzato proprio Lo vedi Si tocca le tempie A quel punto Massimo Carminati Che percepisce Capisce Che quel bambinone A breve Potrebbe suicidarsi Dal terrore E allora Visto che ha raggiunto Il suo scopo Ovvero Far capire Chi comanda E un conto E chiarirlo a parole Un altro E farlo Con la paura Perché solo Quando tu sei lì E hai paura Dentro casa Capisci che devi comportarti E di sveglia Te ne metti 15 poi A quel punto risponde Che poi Non è il corpo biologico Da sé Che si sveglia In quei casi Non serve neanche La sveglia Quando c'è la paura E gli risponde Chico Stai tranquillo Ci sentiamo domani Con calma Paternale Semplice E si vede Guarnera Che fa Il gesto Del pugnetto Dal balcone Che sorride Ragazzi Troppo esilarante Cioè Questa Questa risposta Gli ha ridato 25 anni di vita Ed è proprio Da vedere Andatevi a cercare Il filmato Da qualche parte Di Di Chico Che col pugnetto Tutto felice Torna vimpante Appena avete la risposta Bene Questo episodio E Sempre per dare Quella risposta Che nasce Diciamo Che c'è Che ha la base Di questo podcast Cioè Ancora ci chiediamo Perché Massimo Carminati Fa questo mestiere Perché adora Questo lavoro Adora avere Questo A cui queste Dinamiche di potere Adora Essere Quello che è Ama Quello che fa E fa Quello che ama A costo Della sua stessa Libertà Perché la libertà Se non puoi fare Quello che ami È peggio Della galera Io l'ho detto Io ho detto Prima di far qualcosa Di ripensarci bene Perché poi Le cose Non ti mettono bene Un po' per tutti Però Io qui a Roma Sono diventato Intoccabile Ok Per come una serie Vari dei motivi Non mi può tocare Manco Gesù Cristo Sì sì Lo so Lo so Di che potenziale C'ha Lui è stato In grado Di una cosa In due anni Non sono riuscito A fare lui In tre giorni La sensazione Che abbiamo avuto Sempre Che Massimo Carmiati Non doveva chiedere E non doveva Nemmeno ripetere L'eleganza Incontra la tecnologia Lancia Y Da oggi Nei nuovi allestimenti Oro Platino Ed Ecoshik GPL Partono gli incentivi Lancia Gamma Y Hybrid Da 139 euro al mese Con finanziamento Interessi zero E rottamazione E dopo un anno Puoi tenerla O sostituirla Anticipo 1600 euro 11 rate Da 139 euro E rata finale 12.058 euro Tanzero TAIG 381 Offerta soggetta Ad approvazione Stellantis Financial Services Fino al 31 dicembre Grazie a tutti